Non può ritenersi che l'inquinamento ambientale dovuto alle attività del polo petrolchimico sia un fattore di rischio per le malformazioni congenite. Dagli studi condotti a Gela non si ricava una frequenza maggiore di malformazioni rispetto alle popolazioni non sottoposte a tale rischio. È uno dei passaggi della sentenza emessa dal giudice civile del Tribunale che ha respinto le richieste risarcitori avanzate dai legali dei familiari di almeno nove minori e di tre giovani tutti affetti da gravi malformazioni. Il magistrato ha depositato le motivazioni, circa 40 pagine, nelle quali si fa una disamina anche scientifica dei singoli casi senza però arrivare alla conclusione che le malformazioni siano da collegare direttamente all'inquinamento industriale di matrici come l'acqua e il suolo. L'azione in giudizio è stata avanzata nell'interesse delle famiglie dai legali Giuseppe Fontanella e Luigi Fontanella che con una vasta documentazione scientifica e medica hanno perorato la causa dei minori malformati citando le società del gruppo Eni ovvero Raffineria di Gela e Sindial in base alle richieste avanzate secondo i legali che hanno richiamato le conclusioni di perizie tecniche svolte anche su incarico della procura sarebbe certa la correlazione tra queste gravi patologie e l'attività svolta nei decenni dall'industria pesante. Nel procedimento è intervenuto anche il pubblico ministero, le conclusioni assunte dal giudice hanno invece escluso la correlazione tra le attività della multinazionale e casi finiti alla sua attenzione. Non si intende negare che il petrolchimico costituisca come anche acclarato dalla consulenza tecnica nella parte che ha studiato gli impianti dello stabilimento, la maggiore fonte di pressione ambientale dell'area di Gela si legge ancora nella sentenza e soprattutto la centrale termoelettrica per quanto riguarda le emissioni atmosferiche. Si deve però rilevare secondo il giudice che è possibile mettere in relazione le emissioni del polo industriale con le patologie sofferte dagli attori solo se si escludono tutti gli altri fattori di rischio. Da quello che emerge quindi secondo il giudice non è di escludere che il territorio locale possa risentire delle conseguenze di altre fonti di contaminazione diverse da quella industriale. Al magistrato sono stati sottoposti molti casi con giovanissimi affetti da malformazioni di diversa natura. Nelle motivazioni viene richiamato il piano di risanamento del sito di interesse nazionale attraverso lo studio conoscitivo dello stato dell'ambiente. Si conferma così la convinzione che il polo industriale non sia l'unica fonte di possibile contaminazione. I legali delle società egni a loro volta hanno chiesto di respingere ricorsi avanzati dalle famiglie. Dall'agricoltura intensiva agli scarichi dei comuni più vicini sono diverse le potenziali fonti alternative indicate nella sentenza che possono incidere sull'inquinamento del territorio così come riportato nelle motivazioni rilasciate dalla giudice strazzanti. Anche sull'abbandono dei rifiuti ci sono dei riferimenti precisi. Esistono quindi secondo il magistrato percorsi causali alternativi escludendo come spiegato dai legali di Eni che possa esserci una correlazione diretta tra le attività industriali e le gravi patologie registrate sul territorio ad iniziare dalle malformazioni congenite.